ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale il mondo di arona gianina oggi vi presentiamo una meravigliosa glassa specchio al cacao dalla semplicità unica e con poche mosse potrete rendere la vostra torta un'opera d'arte cosa posso dirvi iniziamo iniziamo la ricetta mettendo 12 grammi di gelatina in ammollo in acqua freddissima per 10 minuti nel frattempo in un pentolino mettiamo 70 grammi di sciroppo di glucosio chi volesse vedere il nostro video trova il link in descrizione 100 ml di acqua 200 grammi di zucchero a velo e mescoliamo continuamente finché il composto raggiungerà la temperatura di 103 gradi arrivate alla temperatura prestabilita aggiungiamo 70 grammi di cacao amaro e mescoliamo per bene aiutandoci con un frustino ora mettiamo la gelatina in 190 ml di panna bollente e mescoliamo finché si scioglierà poi aggiungiamo la panna al composto di cacao e mescoliamo con un frustino finché sarà ben amalgamata a questo punto trasferiamo la glassa in due passini così da avere la certezza che non ci siano eventuali scorie infine copriamo con pellicola trasparente a contatto e lasciamo raffreddare finché raggiungerà la temperatura di 34 gradi adesso copriamo interamente la torta con la glassa e chi volesse vedere il video di questa torta trova il link in descrizione bene amici il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata ciao amici e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche